A niente vale l'opposizione dei genitori e degli alunni. Le classi vanno accorpate come previsto dai parametri ministeriali. È accaduto all'Istituto Superiore di Istruzione Machiavelli, dove due classi erano di troppo, una al liceo classico e una al liceo delle scienze umane Paladini. Al classico è stato trovato un accordo sulla classe da sciogliere, al Paladini invece dove gli studenti erano più numerosi si è reso necessario un sorteggio, svoltosi alla Palazzina 7 del Campo di Marte, dove le classi dell'Istituto sono ospitate dai container. Un gruppo di genitori ha manifestato inutilmente la propria contrarietà al provvedimento, anche in considerazione del fatto che i ragazzi arrivano da due anni che hanno messo a dura prova la loro possibilità di socializzare e adesso alcuni di loro saranno divisi dai compagni, senza contare le difficoltà logistiche attraversate da questa scuola. Perché siete contrari all'accorpamento delle classi? Perché vengono, intanto perché i ragazzi vengono divisi e questo per noi era importante che i ragazzi, visto che avevano già avuto due anni molto difficili, rimanessero con i loro amici e poi anche perché verranno classi naturalmente più grandi e non ci dimentichiamo che qui siamo nei container, quindi non ce lo dimentichiamo mai perché già abbiamo fatto proteste perché comunque nei container ci pioveva, non c'era, c'è stato dei periodi che non avevano riscaldamento, insomma i ragazzi sono stati molto disagiati e noi non eravamo d'accordo. L'accorpamento delle classi dovrebbe riguardare anche altre scuole della provincia.